Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto dall'Istituto Demoscopico, termometro politico, del 17 di marzo del 2021 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Vediamo il peso dei partiti. La Lega ha primo partito con il 23,2%, Fratelli d'Italia secondo partito con il 18%, il PD terzo partito con il 17,5%, Movimento 5 Stelle quarto partito con il 16,4%, Forza Italia con l'8,3%, Sinistra Leu 3,6%, Azione di Calenda al 2,7%, Italia Viva al 2%. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.